Radiopolo.org, vivi, esplora, ascolta! La macchina latina, quando la luce splendera Ed il mio bacio scioglierò il sangue Buonasera, buonasera cari amici all'ascolto, buonasera Mariangela Buonasera Enrico, a te e a tutti i nostri radioascoltatori Questa sera abbiamo aperto un'apertura inusuale Inusuale però degna perché un artista parla soprattutto attraverso le sue opere E quindi è la sua voce, la sua vera voce Infatti stasera penso perché abbiamo mandato quella che è una delle parti più famose Di quella che è stata la sua ultima ed incompiuta opera, la Turandò Infatti stasera parliamo di Giacomo Puccini Esattamente, Giacomo Puccini è un grande personaggio Che proprio a cavallo del Novecento ha realizzato delle opere straordinarie Straordinarie, il mitico, il grandissimo Luciano Pavarotti Ci ha incantato proprio con questo Nessun Dorma E noi siamo ritornati dopo un breve periodo di... Abbiamo cercato di dare, come dire, un senso di astinenza Per capire un attimino se siamo mancati o meno I viaggi... la sosta è parte integrante del viaggio Io non penso che possa esistere un vero viaggio senza sosta La sosta è un momento di riflessione, un momento anche di godere quello che si è fatto Quindi non è mai negativa la sosta No, è giusto Trovi sempre una motivazione No, non è una motivazione È una verità che... È una verità che fa parte della vita E ognuno di noi, la vita stessa è un viaggio E ogni tanto dobbiamo prenderci anche delle pause da noi stessi Altrimenti diventiamo, come dire, forse un po' come i personaggi di queste grandi opere, no? Poi andiamo quasi all'autodistruzione Quindi è importante anche, come dire, bilanciare i viaggi con le soste Allora, questo grande personaggio che ci ha fatto davvero sognare Sai che è un capricorno come me? Ah sì? Questo mi inorgoglisce particolarmente Però è nato a dicembre come me Io però sono sagittaria E vabbè, non si può avere tutto nella vita Giacomo Puccini, insomma, un piccolo difetto doveva tenere Allora, Giacomo Puccini è un grande personaggio Lui nasce a Lucca il 22 dicembre appunto del 1858 Una famiglia Sesto genito di nove figli Guarda, a quei tempi l'Italia era proprio una cosa bella Si formava, c'erano queste grandi famiglie Non si badava al numero, nove, dieci, dodici Sai, a volte mi chiedo sempre Perché poi se tu ci rifletti Come dire Non è che allora ci fossero delle situazioni così rose, no? C'era la guerra Poi c'è stata la prima guerra mondiale La seconda guerra mondiale Eppure si aveva, come dire Si credeva nel futuro, no? I figli erano la speranza Mentre oggi invece Con tutte queste difficoltà Che però alla fine sono niente Verso le difficoltà dei nostri nonni Dei nostri padri Invece si tende a non Come dire Ad annullare questo Forse perché siamo troppo Presi dal nostro ego Però comunque insomma Siamo figli dei nostri tempi anche noi E lui nasce Diciamo è figlio d'arte Come sempre Quando ci sono delle eccellenze Le cose vengono da lontano Come Mozart Come Che noi insomma Abbiamo trattato Come Beethoven Era figlio d'arte E Però purtroppo Da subito C'è un Come dire Un grave lutto Qualcosa che segna Irrimediabilmente La sua vita Il padre muore Quando aveva solo 5 anni E quindi Come dire La madre si trova Con Delle difficoltà No? A portare avanti Tutta la famiglia Lui aveva ben 5 sorelle Quindi La sua infanzia È stata Circondata Soprattutto Da Da donne Dall'amore femminile L'amore della madre Delle sorelle Delle cugine Delle zie Insomma Forse è qui Che si forma Questa sua Come dire Accentuata Sensibilità All'animo femminile No? Perché Quelle che ha portato Sulla scena Sono soprattutto Donne Con tutti I loro colori I colori Della loro anima E quindi Un grande Conoscitore Dell'animo femminile Sicuramente Questi primi anni Della formazione Della sua formazione Sono stati fondamentali Inizialmente Non era proprio Una mente Eccelsa Era un po' pigro Rispetto ai Grandi Personaggi In famiglia Grandi compositori Grandi musicisti Ma lui era un po' Più pigro Ecco Non si lasciava Prendere Ecco La mano Ad essere subito Immediatamente Quella figura Che tutti si aspettavano Quindi Essendo di una famiglia Di grandi musicisti Poteva venire fuori Questo genio Che però È venuto fuori Un po' alla lunga E guarda caso È venuto Proprio stimolato Dal Da questo professore Che Lo Spingeva Ad ascoltare Delle opere E quale opera Ha folgorato Proprio Puccini Sì a 18 anni Lui ha ascoltato Quello che all'epoca Era il più grande No Il più grande Compositore Verdi Giuseppe Verdi E l'Aida Quindi lui Spesso si parla Di Giacomo Puccini Come erede Di Verdi Anche se Secondo me L'ha Ampiamente superato Per un mio gusto Musicale Delle sue opere Quale in particolare Ti affascina Lui ha trattato Sempre il tema Dell'amore Questo Lo hai già detto Però sempre In una versione Un po' Ad esempio Con la Turandot La Turandot È una principessa Che è una principessa Sanguinaria È molto dura Decisa Algida Che poi alla fine Però si trasforma Una figura Molto Amorevole Quindi conosce L'amore C'è questa Questa visione Molte volte Dietro questa Questa maschera Questa corazza Che tutti noi portiamo Poi Forse proprio Dietro queste Personalità Che si sono dotate Di questa Armatura Ci sono poi Le sensibilità Più Forti Quelle più Genuine Che quando escono fuori Poi danno Danno vita Alle passioni Più grandi In fondo Le persone forti Sono solo persone Che stanno proteggendo La loro Fragilità Sì Penso di sì Sicuramente Perché nelle sue opere Traspare sempre Un po' Un comportamento Di A volte anche Di Disagio Non lo so Se è dovuto Da questa forma Di tante donne Che lo hanno circondato O dalla moglie Sicuramente Lui è un Asciso È un po' Avone Tutta la sua vita Ci Ci testimonia Di questa cosa Tu pensa Che Guardando un po' Sai che Insomma Guardo un po' Di fonti diverse Mi piace fare una ricerca Quando trattiamo Un personaggio Lui è stato Il primo In un certo senso A cavalcare La comunicazione Nel senso Della promozione Della sua immagine Aveva fatto Ben due Documentari Uno poco più Diciamo Arrangiato Tra virgolette E poi uno più Professionale Dove si parlava Della sua persona Della sua vita Era una sorta Di promozione Che faceva Della sua persona Una sorta Di profilo Facebook Possiamo dire Che tutti ormai Abbiamo Dove In qualche modo Proponiamo La nostra immagine Al mondo Alla società E anche Lui lo faceva Quindi vedi Però io penso Che Questa fame D'amore Poi fondamentalmente Che ha avuto Sicuramente È stato legato A questa donna Per tutta la vita Ma con innumerevoli Veramente tantissimi Amanti Forse alla fine È stato un uomo Che Può essere Che non si è mai Sentito amato Che ricercava Un qualcosa Sai È facile Quando trovi Queste vite Così Fare un giudizio morale Però Bisogna sempre Poi andare Nel fondo Perché Secondo me Non si nasce Buoni o cattivi Ma è sempre Il percorso Le circostanze Poi puoi anche Immaginare Quante donne Si avvicinassero Al maestro Perché La straordinarietà E la modernità Dell'opera di Puccini È che il vero protagonista È il pubblico Lui Attraverso Questi colori musicali Noi quando ascoltiamo Puccini Ci viene la pelle d'oca Proprio perché Lui Riesce Attraverso Dei suoni A rivocare Tutti Tutte le emozioni Più Recondite Che abbiamo E quindi Puoi pensare All'epoca Quando andava In scena Un'opera Di Puccini Le donne Erano completamente Stasiate Dal maestro E quindi Insomma Si buttavano Ai suoi piedi Diciamo la verità Era anche Un bell'uomo Quindi Insomma Due più due Fa quattro È vero Perché La moglie Comunque È una donna Che Ah Una cosa importante Che dobbiamo dire È che Quando lui Fu fulgorato Da Verdi Con l'Aida Pensò Di andare A studiare A Milano Però Sempre Questi Mannaggia Questi soldi Erano pochi Addirittura La madre Scrisse Alla Casa Reale E la regina Margherita Sostenne Gli studi Al Conservatorio Di Milano Vedi Quanto La fortuna Ti viene in aiuto Riesci sempre Anche sicuramente Una madre Dove essere Una donna Forte Una donna Che Era abituata A lottare Da sola Per i suoi figli Che non si diede Per vinta Comunque Proprio grazie Alla regina Questa è una curiosità Proprio grazie Alla regina Margherita Riuscì Ad andare A Milano E lì Ovviamente Era il palcoscenico Di tutti i grandi Dell'epoca Dove ha avuto Come dire Scambi Con tutti quelli Che erano Gli artisti Emergenti Però lui è stato Sempre Un individualista E uno che Come dire Ricercava Un nuovo Linguaggio Espressivo Non si è accodato A quelli Che erano Come dire I vari Artisti Emergenti Dell'epoca No? Si è E all'inizio Non è stato Facile Per lui Le sue prime opere Non sono state Subito acclamate Anzi Addirittura La Bohema Che è la più Importante Come opera Di Puccini Alla prima Alla scala Fu un completo Fiasco Quindi Anche lui Ha avuto Tutte Una sorta Di difficoltà Prima di Come dire Perché la critica Ovviamente Come sempre Come quando Vede qualcosa Di nuovo Ne prende le distanze O comunque Lo guarda Con sospetto Mentre invece Il pubblico Sempre L'ha sostenuto Proprio perché Il pubblico Per lui Era il vero Protagonista Delle sue opere E quando tu ami Il pubblico Il pubblico Non può che amarti Sì Spesse volte La critica Ha dovuto cambiare La propria opinione Sulla spinta Proprio sull'onda Del clamore Del pubblico Ha dovuto rivedere Proprio il contesto Del pensiero Sì perché Spesso sai Gli addetti a lavori Cosiddetti intellettuali O quelli Hanno sempre un po' Quella puzza Sotto il naso Oppure Cercano sempre Di prendere distanze Invece poi La veracità Del pubblico Vince Quando un artista Piace al pubblico Poi vince È un plebiscito C'è poco da fare Forse alla fine Essere un artista E soprattutto Essere un artista Del popolo Perché essere un artista Per pochi eletti Forse non è il vero Come dire Il vero Il vero scopo Di un artista La sua vita Sentimentale Nel 1904 Inizia proprio Sposando Una certa Elvira Gemignani E guarda un po' Questa donna Era fuggita Da Lucca Dalla sua famiglia Per stare con lui Era già sposata E aveva anche una figlia Quindi è stata già Una grande forza Di Una grande prova Possiamo immaginare All'epoca Lo scandalo No? Di una cosa del genere Quindi Questa donna Che poi è stata La figura Che gli ha creato Anche un po' Di problemi Perché era Molto legata Alla figura Del maestro Una gelosia Ossessiva Una gelosia Che addirittura Ha messo in crisi Anche delle figure Che erano Al servizio In casa Come addirittura Ha indotto Una Una giovinetta Che è una certa Doria Malfredi Perché Lei diceva Che era Una sua Amante Una sua amante E addirittura Questa ragazza Che era veramente Giovanissima All'epoca Che era di Torre del Lago No? Perché Diciamo che Questo posto È stato fondamentale Per Puccini Perché poi A un certo punto Da Lucca Si sposta Acquista Quando incominciano A arrivare I primi guadagni Si sposta A Torre del Lago Lui amava Questo posto Perché lì Andava a caccia Perché lui Era proprio Un amante Della caccia Si Come dire Al di là Dei fasti Dei Dei teatri Lì Lui Amava stare Con Questi Abitanti Del luogo Che erano persone Molto semplici E quindi Diventa Come dire Veramente Il luogo Dove lui Si ritira Per Per comporre E Quando ha avuto Un incidente Perché lui Tra tutte le altre Passioni Donne e motori Quindi anche I motori Fu presa Questa Ragazza In casa Sempre a servizio E Sua moglie Ervira Accusò Pubblicamente Questa domestica Di avere una relazione Allora Diciassettenne Con il marito E questa povera Ragazza Vista Come dire Macchiata Da un'onta Del genere Perché possiamo Immaginare In quel tempo Cosa voleva Significare Si suicidò E addirittura Poi dopo Si scoprì Che era illibata Quindi era Veramente Una 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 Gelosia Che a un certo punto E' andata Addirittura Nella paranoia Andava a modificare Proprio il senso reale Del vero Dell'accaduto Proprio perché Lui aveva Lei aveva Proprio Addirittura Non lasciava avvicinare Nemmeno Più gli amici Gli amici più stretti Aveva collocato Proprio la figura Del maestro In una forma Quasi Isolata Dove La sua paura E che il pubblico Lo dimenticava Invece Non l'ha mai dimenticato Anzi il pubblico Acclamato sempre Ogni suo momento Ogni sua opera Quindi era una figura Che Nonostante la bellezza Era sempre Intorno a sé Nonostante il pubblico Ha sempre sostenuto Tutto Quello che Lui ha realizzato Però Ecco Credo che Una vena Di Di infelicità Ecco Come hai detto Era una ricerca continua Nella ricerca Della passione Dell'amore Di trovare La donna giusta Forse ancora Non l'aveva Trovata Quella sorta Come dire Di amata e mortale Di Di Beethoven No no Questa donna immaginaria Che poteva incarnare Tutte le Tutte le donne Che lui Che lui aveva amato E che poteva Come dire Essere la sintesi Finale Per la sua vita Però lui Alla fine Sai Lui alla fine Della sua vita Ha avuto Una relazione Importante Dove addirittura Ha messo In discussione Il rapporto Con Elvira Con una baronessa Di cui adesso Mi sfugge il nome E lo avrà appuntato La baronessa Von Stangel E addirittura Mette quasi In Forse Il rapporto Con Elvira Però poi Alla fine Non ce la fa A lasciarla E quindi Comunque Alla fine Fino alla fine Dei suoi giorni Rimane Con 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 la moglie Sì perché Comunque Nonostante tutto Lui comunque Dice di amarla Non è che Sia una figura Insignificante Per lui Sai a volte Ci sono rapporti Che non ti fanno Stare né male Né bene Che però Diventano quasi Necessari No Come Come dire Una dose di veleno Necessari A vivere Non so Questi sono sicuramente Amori malati E distruttivi Perché L'amore Dovrebbe essere Comunque qualcosa Che ci fa Sicuramente Vivere meglio Far cacciare la parte Migliore di noi Invece Questo rapporto È stato veramente Deleterio Per il maestro E poi alla fine Vabbè Insomma Sapranno loro Cosa è successo Però Sicuramente È stato un rapporto Che l'ha portato Comunque alla distruzione Perché poi E proprio da questa morte Di questa Di questa ragazza Di questa povera ragazza Che poi alla fine Era anche innocente Lui entra in crisi Entra in crisi E poi addirittura Si ammala Di questo fuoco Alla gola Lui parlava Di avere un fuoco Alla gola Che poi si scopre Purtroppo Essere un tumore Quindi Come dire Sicuramente Anche tutto questo Tutte queste tensioni Questo dolore A un certo punto Hanno anche inciso Sulla sua Sulla sua salute Ma tu lo sai Che era talmente Pavone Che quando Cominciò A Invecchiare Voleva fare Quello che fanno Le donne Oggi Cioè Addirittura Farsi Trapiantare Delle Delle Ghiandole Delle scimmie Erano cose Sperimentali Per prendere Più anni Per essere Più giovani Oggi Si fanno Le siringhette Lui voleva Fare addirittura A questo Quindi Quindi Vedi Che personalità Anche borderline Sotto 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 Certi punti di vista Però Quando poi Ascolti La sua musica Non puoi Che Come dire Per donarlo Per donarlo Di tutto Questo Perché Sicuramente Vivere Con una Sensibilità Così Grandiosa Inserirla In quella Che sono Come dire Le gabbie Della vita Materiale Umana Non è facile Quindi ecco Queste Queste Discrassie No Questo Genio E Follia Questo Quest'uomo Insomma Capace Di Come dire Di scrivere Delle cose E poi Di fare Di eccessi Di ogni genere L'Isir Di lunga vita È qualcosa Che viene da lontano Ogni Ogni grande Della terra Ci ha Ci ha provato A trovare qualcosa Ogni alchimista Si è inventato Qualcosa Per Allungare La vita La si può allungare Sicuramente E nelle cose Che lasciamo Lì c'è L'immortale L'immortale Di ognuno Sicuramente In tutto quello Che è la nostra vita Ha prodotto E ha lasciato È il messaggio Che lasciamo È la testimonianza L'immortalità Di ogni essere Quindi Eh lo so Però Sai Questo Per arrivare A questa Convenzione Devi poi Come dire Liberarti Da tutte le Trappole Dell'ego No Dove E anche Dal delirio Di onnipotenza Che comunque Poi Quando si arriva A certi livelli Sembra quasi Inevitabile Noi l'abbiamo visto In tutti i nostri Personaggi Penso che Nessuno È stato È stato Graziato Da questo Dal voler Vincere Di vincere La vita Di essere Immortali Di vincere La morte Ma la morte È la tappa Necessaria Perché la vita Si Si rinnovi Si rinnovi E che si compie È il ciclo naturale Di questo mondo Dove ognuno È qui Semplicemente Per dare il proprio Contributo Per far sì Che tutto questo Continui ad esistere Semmai ognuno di noi Ha nel suo obiettivo Di lasciare una traccia Positiva E qui Inizia Ampia discussione Per capire Quanti vogliono Lasciare qualcosa E quanti Invece Vogliono Semplicemente Prendere Qualcosa in più Perché Come detto Essere figure Che non riescono Diciamo si scollano Un po' dalla realtà E quindi vivono In questa onnipotenza Dove tutto quello Che c'è intorno La sentono propria E però Mi viene in mente Una figura Che hai Spesse volte citato Ultimamente Parlando di Un altro Personaggio Che è Nato dal nulla Praticamente Ha creato Un grande impero E lui si è reso conto Che alla fine Tutto quello Che aveva creato Non aveva Nessun valore Perché nel momento In cui la vita Ti Porge il conto Tutto quello Che hai fatto E tutta la ricchezza Non servirà Nemmeno Un centesimo Per allungarti Di un giorno Di un'ora O di un minuto Parlavo appunto Di Steve Jobs Che appunto Aveva detto Nel finale Amate di più Le cose che fate Perché Non vi porterete niente E lascerete solo Una traccia Della vostra vita Su questo mondo Quindi cerchiamo Cerchiamo di lasciare Una traccia positiva E' sempre la stessa E' sempre un po' No? Questo è un po' Quello che diciamo Quasi ad essere Ripetitivi Ad ogni nostra puntata E come dire Anche Anche noi qui Diamo un piccolo contributo Parlando di questi Di questi grandi uomini Di questi grandi donne Che sono Come dire Con la loro vita Sono una testimonianza Di quello che Può essere La vita di ognuno Di noi Nelle eccellenze Ma anche Anche in quella Che la società Definisce normalità Perché Sicuramente Ci sono Uomini e donne Che non andranno Sui libri di storia Su cui Di cui Non si parlerà Come Giacomo Puccini Che però Anche Come dire Intorno a noi Se noi Osserviamo bene Sono dei Sono dei grandi esempi E forse Abbiamo bisogno Sempre di esempi No? Sicuramente Si Che siano esempi Esempi positivi Oppure esempi Che Che fanno riflettere Come pure L'influenza Che Puccini Sicuramente Ha avuto Da un altro Grande personaggio Come Wagner Wagner Ha dato Davvero Un segno Molto forte Nella vita Di Puccini Perché Questa grandezza Questa maestosità Proprio Della musica Wagneriana Ha tracciato Anche Nell'espressione Pucciniana Sicuramente Un grande profilo Un grande Momento E I personaggi Guarda Guarda Io sono rimasto Affascinato Ultimamente Andata Appunto In video Mi sembra La RAI Proprio ha mandato L'opera Della Madonna Butterfly Ha un'opera Straordinaria Bella però Un'opera triste Molto triste Che tristezza La donna Che attende Così In vano Proprio il ritorno Sai che Per Sai Sicuramente All'epoca Di Puccini Non è che si prendeva Un aereo E si andava In Giappone O si poteva Venire Come dire A contatto Facilmente Con Con altre culture Lui Per Capire I suoni Perché Quando Nella Badam Butterfly Ecco Lui ha Questo modo Molto Rievocativo Perché tu sai Che il suono Ha un effetto Sul nostro cervello Estremamente Rievocativo Cioè lui Riusciva a farti Sentire caldo A farti sentire Freddo Solo attraverso Il suono Solo attraverso I colori Del suono E lui Fece amicizia Diciamo così Con un'attrice Giapponese E la faceva Parlare In giapponese Senza che lui Capisse niente Perché voleva Capire I suoni Di quella Lingua Quindi Vedi Com'era Attento E com'era Poi alla fine È stato comunque Un grande Ricercatore Dell'anima Sì Cercavo di Entrare Proprio in Contatto Con La parte Più nascosta Cercavo di Entrare Proprio Nell'emozione Del personaggio Sia in Negativo Che in Positivo E questa È stata La grandezza Proprio di Puccini Di Realizzare Delle emozioni Mettere in musica Ma attraverso Proprio i personaggi Che Entravano in scena Erano personaggi Che emozionavano Proprio il loro Modo Ecco perché Lui si innamorava Spesso Delle cantanti Che Erano A presentare Le sue opere Perché Riusciva a vedere Le emozioni Che lui Aveva Vissuto Nello Nello scrivere Nel Mettere in musica Anche Queste opere E poi Vederle Realizzate Ecco Fisicamente Forse per lui Era un piacere Estremo Ecco per questo Si innamorava Sempre Dei Sui personaggi Beh è come una donna Che partorisce Un bambino E finalmente Lo vede No E penso Che è un po Come dire Questa metafora Ci sta tutta No Perché Le sue opere Erano I suoi bambini Le sue bambine I suoi Le sue bambine Perché si innamorava Sempre Delle donne Vabbè Voglio dire Non lo so Poteva anche Innamorarsi Degli uomini Non sarebbe stato Diverso È sempre amore Però Sicuramente Era Un uomo Affascinato Dal Sai Io Spesso Vedo Questi uomini Che collezionano Tante donne E Sono certo Che Alla fine Sono affetti Da una sorta Di bulimia Dei sentimenti Dove C'è una ricerca Quasi spasmodica Sempre di queste Emozioni Che Ovviamente Tutti gli inizi Delle storie Danno Però Alla fine Forse Perdi Comunque Il vero valore Dell'amore Che Amore Non è solo iniziare Ma è continuare È lì che è difficile Però poi È quello che forse Ti dà la Come dire Nel tempo Ti Ti rende completo È molto semplice Passare da una storia All'altra La cosa La cosa Difficile È cercare Di E creare La storia E creare Una storia Che sia La storia Della tua vita Allora Abbiamo Aperto con La Turandò Quest'opera Che Appunto Il maestro Toscanini Tu sai che Il maestro Toscanini Una sola volta Ha diretto Quest'opera Alla prima Perché Addirittura Si fermò Nel momento In cui A un certo punto Lui si ferma E dice Qui Il maestro È morto Perché ha smesso Di scrivere Eh sì perché È un'opera incompiuta Diciamo Lui purtroppo Non ha scritto Il finale Di questa Di questa opera E quindi No È stato riscritto Ci sono stati Due Due finali Scritti Da due Differenti Differenti autori E quindi Insomma Poi dipende Insomma Vengono Vengono messi in scena A seconda del gusto Ovviamente Del direttore D'orchestra Però È L'opera Forse la più bella Secondo me Forse anche perché È incompiuta E quindi È aperta C'è questo fascino No Il fatto di Come dire Di Di lasciare il finale Quasi una Una sorta di Di libera Di libera Interpretazione Sicuramente Forse Con lui Come dire Con questo finale Se lo porta Se l'è portato Dietro Si è portato Dietro Un'emozione Qualcuno dice Qualche critico Perché sai che c'è sempre Una scia Che Diciamo Rema contro Dice Non ha compiuto L'opera Probabilmente Perché questa sua Somma ricerca Dell'amore assoluto Per lui Comunque resta Un qualcosa Di incompiuto Perché Ha speso Tutta la vita La ricerca Di questo grande amore Probabilmente Anche nello scrivere Quest'opera Che era anche Attraverso le opere Una ricerca Per questo Per questo amore E lui Anche in questa volta Non Non è Non c'è riuscito Probabilmente Qualcuno dice Si è fermato Ma non perché Non aveva Diciamo La possibilità La possibilità Di chiuderla Ma semplicemente Perché questa grandezza Di ricerca Di questo grande amore Per lui Era ancora Qualcosa di Di aperto Forse Era una ricerca Ancora da Aperta Quindi una ricerca Ancora in atto E allora Poi Vabbè Ognuno poi Scrive un po' La storia Come meglio crede Esatto E Abbiamo detto Turandot Butterfly Io adesso Facciamo una bellezza Assoluta Perché io so che C'è un qualcosa Che Chiudiamo con Dire Con proprio La Madame Butterfly Che è cantata Eh vabbè Questo è un personaggio Che io Abbiamo fatto due puntate Su questo personaggio Sai quanto lo amo Sai quanto sono Estremamente affascinata Da questa donna E Chissà chi è Questa donna Straordinaria Che ti incanto Ogni qualvolta L'ascolti E proprio dalla Madame Butterfly Un bel di vedremo Voce straordinaria Maria Callas E poi la nave bianca Entra nel coro Questa donna Questa donna E poi la nave bianca E poi la nave bianca L'ascolti E poi la nave bianca E poi la nave bianca E poi la nave bianca Dall'unica Dall'unica grande Diva Che c'è stata Nel teatro A mio avviso Che era Maria Callas Che forse era Un'eroina Anche nella vita Che sarebbe piaciuta A Puccini Perché è morta Del suo grande amore Quindi Come dire Una altra grande storia Che Tra volte E' stata proprio Presa Forse Un po' Anche forse E' rimasta quasi vittima Delle sue eroine Quindi Talmente le sentiva Che anche Anche la stessa Ha avuto una vita Come dire Da opera tragica No? Pucciniana C'era un modo Di amare diverso Ecco Adesso noi Conoscendo un po' Tanti personaggi C'è un modo Particolare Di interpretare La passione L'amore A quei tempi Oppure Era proprio Così Hanno conosciuto In un modo diverso Il senso Dell'amore Beh sicuramente Erano persone Che Allora Tutti quelli Che abbiamo Studiato Insomma Che abbiamo Trattato E anche la stessa Callas Erano persone Che per arrivare Avevano Come dire Erano venuti Dal nulla Avevano Attraversato Le difficoltà No? Delle guerre Della miseria Anche il deserto Interiore Di non vedere Una prospettiva Davanti a sé E forse Questa forza Che dentro Avevano Come dire Era anche Quello Poi alla fine Anche il loro Modo di amare Era così Era forte Oggi Non lo so Forse è brutto Dire che oggi Si ama Si ama Poco Perché sicuramente L'amore È forse la cosa Più Più democratica Che esiste No? Tocca Chi più Chi meno La vita Di tutti Noi Però oggi Quello che non si vuole È soprattutto L'impegno Dell'amore Perché l'amore È anche un impegno E quindi Non lo so Sai Poi dipende anche Dall'indole Delle persone Estremamente Passionali Beh sicuramente Vabbè Ma qui stiamo parlando Di eccellenze Di persone Che avevano Comunque sicuramente Delle ottave Superiori No? Beh Per rimanere In ambito In ambito musicale E Una cosa Prima di chiudere Volevo dire Puccini è stato Molto Cinematografico Nel senso Che ci sono Più di 300 pellicole Che hanno Le opere Le musiche Delle opere Di Puccini Infatti Puccini è molto Conosciuto Al grande pubblico E soprattutto In queste Aree Così famose No? Molto spesso Le persone Non sanno Neanche Che è Puccini E che si Io oggi In ufficio Ascoltavo Diverse Aree Delle varie Opere E I parecchi Dicevano Ah ma questa La conosco Ah ma è veramente Puccini Ah ma è la Madame Butterfly Cioè praticamente Parecchi La conoscono Però Non sanno Che è L'opera Di Puccini E io Quello che voglio dire È di ritornare Al teatro Di Anche per i giovani Soprattutto Di studiare Questi Questi Grandi Grandi Maestri E di avvicinarsi A questo A quello Che sembra Una musica Morta Ma invece È la vera Musica Quella che Ci danno Da mangiare Oggi È Spazzatura La vera La vera La vera musica Sì È quella Che ti emoziona Ti lascia Dentro Un segno Che Difficilmente Riuscirai a rimuovere E come pure Quello che noi troviamo L'effigio che troviamo Sulla lapide Proprio di Puccini Spiega un po' Tutto quello che è stato Il grande L'estro dell'artista Perché Hanno sintetizzato Proprio in questo In questo passaggio Che È Molto Molto bello Ecco Se Se la vuoi leggere Perché è davvero una cosa E noi abbiamo tracciato Un po' Questa figura Un po' In chiaroscuro La figura Dell'uomo Le donne Il piacere Però Dentro C'era una grande forza Una grande armonia Abbiamo trattato All'inizio Il piacere dell'armonia Eh sì Beh queste sono Come dire Sono dei versi Che Sono lapidare Visse da Bohemian Maturando in cuor suo Il dono Imminentissimo Di armonie sublimi E melodrammi eterni E melodrammi eterni Perché Come eterno L'amore Come eterno Tutto quello Che noi facciamo E lasciamo Quindi facciamo Sempre Delle cose Belle e positive Come il nostro Giacomo Puccini Ha fatto per noi Scrivendo queste opere Che ancora oggi Ci emoziona Tantissimo In tutto il mondo Tutti quanti Ascoltano Queste opere E tutti i grandi Cantano in italiano Tutti Tutti Assolutamente Tutti Ricordiamoci Di quanto è grande La nostra La nostra Terra Amiamo di più Il nostro Paese Come diciamo Spesso Amiamo di più Tutto quello Che è la ricchezza Artistica E proprio in tutti i sensi Cerchiamo di riscoprire Perché probabilmente Qualcosa ci è sfuggito Quindi facevamo modo Anche di riscoprire Attraverso questi Grandi personaggi Quanto è bello Essere Innanzitutto Vivere in Italia E ovviamente Un po' di campanilismo Essere italiani È un qualcosa Che ci inorgoglisce Particolarmente Sempre Allora Primo viaggio Il nostro Stargate Ci ha portato davvero In un momento Di grazia Come vedi La musica unisce Sempre E come dire Armonia Delle sfere celesti Che ritorna Anche Anche Nella nostra vita Io ringrazio te Enrico E tutti i nostri Radioascoltatori E Alla nuova Ad una prossima puntata Ad un prossimo viaggio Bene Grazie a te Mariangelo E a tutti gli amici Che ci seguono Sempre qui da Radiopolo Ascoltate il podcast Che troverete Su radiopolo.org Buona serata a tutti